Ragazzi, se vogliamo l'autonomia, l'autonomia deve essere votata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei voti. Che la Regione Lombardia sia all'85% delle sue possibilità, grazie all'autonomia ti devo arrivare al 100%. La legge di attuazione dell'autonomia non è l'invenzione dell'autonomia. L'autonomia è prevista in Costituzione. Punto. Ci sono 23 materie importantissime che determinerebbero la trasformazione di questo Stato in uno Stato federale quando attribuito alle Regioni. Invito Bonaccini a leggere la nostra proposta di legge, come diceva in Audi, conoscere, discutere, deliberare. Ho qui a fianco un signore che si chiama Matteo Salvini, che ha partecipato con me a un vertice politico in cui anche con delle correzioni abbiamo portato a casa l'ok politico. Io il presidenzialismo l'ho già scritto e portato in Senato e fatto approvare nel 2012. E io non credo che ci siano motivi diversi di affrontare o il presidenzialismo o un premierato, perché il premierato era nella riforma costituzionale a mia firma del 2005. Grazie a tutti.